e ben a tutti ragazzi sono loro su mille perché sincronizzazione d'acqua bene c'è una sincronizzazione dei dati e benvenuti in questo nuovo video su questo gioco che ho scaricato tipo settimana scorsa e c'ho l'auto green screen perché perché tipo c'è l'idlc gratuito per xbox per gli xbox players e c'ho l'auto green screen ho giusto giocato solo per farmi le missioni di fortnite e però non so come si gioca non so come si gioca negozi oggetti vabbè e vabbè e nulla io so qualche missione da fare ma tanto non le farò haha sono proprio un nabbo c'ho delle missioni da riscuotere ok ok e nulla giochiamo che casuale beh penso che metto 3v3 si dai 3v3 standard di sto cercando partite casuali in europa si bravo accesso in corso accesso tra 3 accesso tra 2 accesso tra 1 caricamento uso la schivata con slancio davanti per prendere velocità senza usare il tutto ma tanto non li sto usare non so nemmeno quali sono i tasti un altro po' no perché sono rosso non sono più un green screen o no o no come si come si vive come si salta si va pure tu non bagarti allora 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 calma 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 dov'è la dov'è 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 ok da qua ma sul muro ma sul tetto ma come si gioca a sto gioco cioè allora io l'ho scaricato solo perché è gratis e ci avrò giocato tipo due volte però boh è una fonte di video quindi che fai? ok da qua viene qui vi no 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 di qua no questa cella e l'arancione perché l'arancione, perché l'arancione, perché l'arancione no ho sbagliato sbagliato sbag happy sbagliato sbagliato no 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 bravo bravo ah si lo sa B mentitemelo però probabilmente me l'avranno anche detto ma io mi sono dimenticato il tutorial dove devo andare? dove devo andare? allora allora bravo forse ce la facciamo forse ce la facciamo no scherzavo scherzavo dove è? dove è? dove è? dove è? dove è il luogo? cosa ho fatto? ho fatto esplodere il mondo no come l'ho salvato? ho salvato il mondo ma che figata è? sto sul tetto vai che ce la facciamo sta là yes ok bene perché salti? perché salti? allora 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 no dov'è? dove? dove è il luogo? dove è il luogo? ma mi salti nel momento in cui sto vabbè no 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 vabbè allora 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 sì ma no 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 sono andata a sbattare l'autoscontro perché la spingio da questo lato? sono morto? ah no sono rinato no sei scemo pure tu? sei scemo? sei scemo? allora dillo sì sono scemo bravo bravo scherzavo scherzavo non sei scemo hai salvato l'universo da che ce la facciamo? da che ce la facciamo? forse non ce la facciamo non ce l'abbiamo fatta perché c'è l'omino del green screen? c'è l'omino del green screen? ok dove è andata? dove è il luogo? dove è il luogo? ok no l'ho missata clamorosamente stanno tutti qua stanno tutti qua come faccio a missarla? ok ok no 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 tirate una laggata forse forse l'avevo solo l'ho vista solo io dove è volata? dove è volata? ecco dove? sta là sta là sta là sta là no ok ok forse forse ho fatto qualcosa di utile sì ma dove andate? magari i miei compagni facessero qualcosa poi detto da me che non sto facendo niente no 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 vai 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 no sto gioco è solo io che urlo vai vai e io che urlo no no dove la sto spingendo? sono scemo 30 secondi sono scemo doco cosa pensa pensa s-s-s-sauce s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s! Tu mi voli Abbiamo capito Che il lama di fortnite Fa Dove devo andare Il lama di fortnite porta Sfortuna Ci fa essere Scarsi Molto Cioè più di quanto già io non lo sia Io non ho Sapete solo che io non ho ancora No Eh abbiamo perso mi sa Lo abbiamo perso Ci fa continuare No ok abbiamo perso Però c'è da dire una cosa In quanto Prima partita seria Perché ho fatto solo il tutorial E una partita di prova per farmi la missione Ho pure sbloccato l'obiettivo Xbox God E Io I see this as an absolute win E Vabbè Quindi Per questo video è tutto Noi ci vediamo in un prossimo video E ciao e ciao